Ciao a tutti! Oggi prepareremo il ciambellone alle pesche sciroppate. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, amido di mais, uova, yogurt alla pesca, olio di semi di girasole, zucchero, vanillina, pasta di limone o scorsa grattugiata di un limone, lievito per dolci vanigliato, sale e pesche sciroppate sia pezzetti che tagliate a fette. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova e lo zucchero. Ed azionare il bimbi per 8 minuti, 37 gradi, a velocità a 4 con il cestello al posto del misurino. Aggiungere lo yogurt e l'olio. ed azionare il bimbi per 2 minuti, a velocità 2. Aggiungere la farina. l'amido di mais, il sale, la vanillina, la pasta di limone con la scorza grattugiata di un limone e il lievito. Ed azionare il bimbi per 2 minuti, a velocità 4. aggiungere le pesche tagliate a pezzetti ed amalgamare con la spatola. Versare il composto in uno stampa a ciambella da 26-28 cm, ben imburrato. mettere sopra le pesche a fette, cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti, fare la prova a stecchino. Ciambellone le pesche sciroppate. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie! 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 Grazie!